Bentornati e benvenuti qui sul mio e nostro canale YouTube. Io mi presento, sono la dottoressa Sara D'Agostini, biologa, pranoterapeuta e insegnante di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico. Eccoci qui di nuovo per il commento del Vangelo del giorno in chiave esoterica, per i nuovi iscritti che ringrazio perché vedo che crescono ogni giorno di più, quindi in questo modo è un vostro ringraziamento per tutto il lavoro, l'energia, l'impegno e talvolta anche lo sforzo che metto per preparare questi video per voi, dico che è da circa due mesi mia piacevole abitudine quello di condividere con voi il passo del Vangelo del giorno in chiave esoterica, ovvero in chiave profonda. Ovviamente l'approfondimento del cristianesimo esoterico, cioè del vero significato del cristianesimo, viene fatto durante l'anno con dei corsi appositi. Io faccio sia dei corsi di risveglio che dei corsi di cristianesimo esoterico. Se volete essere informati sui corsi, su quando escono, sulle date, iscrivetevi alla mia newsletter e o visitate il mio sito saratagostini.it. Ma il commento del Vangelo del giorno in chiave esoterica è ancora più utile, cioè nel senso è un supplemento a quello che è la base del cristianesimo esoterico. Conoscere il cristianesimo in chiave esoterica vuol dire conoscere i misteri divini da un punto di vista occulto, vero profondo. Ma poi studiare, approfondire e comprendere la parola del giorno è la chiave di volta quotidiana, perché io facendo un lavoro su di me posso in questo modo quotidianamente andare ad agire sul mio sé spirituale e profondo, grazie attraverso la parola del Vangelo del giorno. E oggi, mercoledì 24, andiamo a commentare il passo di San Matteo, capo 13, versetti 1-9. È abitudine commentare il Vangelo del giorno, di tutte le volte che riesco a stare in diretta o a registrare, come in questo caso, a registrare i contenuti per portare il significato profondo e vero del Vangelo, tolto dai moralismi, tolto dalla finta etica, tolto da dogmi, ma è il vero significato cristocentrico, il vero significato di Cristo, che è quello che ci interessa ed è quello che serve all'umanità per evolvere, per risvegliarsi a se stesso. Ed è proprio per questo che io ci tengo particolarmente a questa rubrica, che è nata come il caffè evangelico, perché di fatto lo scopo è quello di spiegarvi il Vangelo del giorno, magari mentre sorseggiate un vostro caffè, una tisana, un decotto, un vostro preparato, che contemporaneamente vi possa rilassare il corpo fisico e il corpo emotivo e il corpo psichico. Mentre invece sul corpo spirituale lavoriamo proprio col commento del Vangelo del giorno. Ma andiamo a leggere quello che oggi il messaggio cristocentrico ci vuole trasmettere attraverso San Matteo, quindi il Vangelo di Gesù Cristo attraverso San Matteo, quindi Matteo 13, 1, 9. Siamo in un contesto, quello del capo 13 di San Matteo, dove c'è la parabola del seminatore, la parabola sulla zizzania. Quindi stiamo in un contesto in cui è molto evidente il dialogo tra il Maestro Gesù Cristo e i discepoli. Dialogo che è evidente sia perché il Maestro Gesù Cristo parlava ai discepoli in modo diretto, ma alla folla attraverso parabole. Quindi quando noi troviamo nel Vangelo molte parabole, questo è proprio indice del fatto che era una fase, un periodo dei tre anni di missione del Maestro Gesù Cristo in cui Gesù Cristo era particolarmente abbezzo a dialogare con la folla. E infatti vediamo capo 13, versetto 1 di San Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, stava a sedere alla riva del mare e si radunò intorno a lui gran turba di popolo. Vedete? Perché? Perché quando io vedo le parabole so già, e questo capo di Matteo, il capo 13 di Matteo è davvero ricco di parabole, so già che ci sarà un profondo dialogo e un intenso dialogo, un continuo dialogo tra il Maestro e la folla. talmente che entrato in una barca vi si pose a sedere, tutta la turba restò sul lido, tutta la folla restò sul lido mentre il Maestro Gesù Cristo aveva preso il posto nella barca. E questo è anche metaforico come immagine, ma poi ci arriviamo. E parlò ad essi di molte cose per via di parabole, dicendo, ecco il seminatore andò per seminare, e mentre egli spargeva il seme ne cadde parte lungo la strada, e sopraggiunsero gli uccelli dell'aria e lo mangiarono. Parte cadde in luoghi sassosi parte di questo seme, ove non aveva molta terra, e subito spuntò fuori, perché non aveva profondità di terreno, ma allevatosi il sole lo abbruciò, e per non avere radici inaridì. Guardate che bella parabola questa del seminatore, che ora andiamo a spiegare. Un'altra parte cadde tra le spine, un'altra parte di questi semi, cadde tra le spine, e crebbero le spine e lo soffocarono. Un'altra finalmente cadde sopra buona terra, e fruttificò dove cento per uno, dove sessanta e dove trenta. Quindi dove cento per uno, la semina, dove sessanta e dove trenta. E termina dicendo, che ha orecchie da intendere, intenda. Che poi è stata la frase che io ho ripreso per la copertina di questo video, perché è la frase conclusiva del versetto del Vangelo del Giorno, ma poi è la frase che dà senso a tutta questa parabola, e a tutte le parabole del Maestro Gesù Cristo. Cioè, chi ha orecchie da intendere, intenda. Partiamo dall'ultimo invece che all'inizio. Questa è una parabola, è una parabola dove si ha un inizio, un cuore e una fine. L'inizio è l'immagine figurativa di dove fisicamente era posizionato lo spirito cristico. Quindi Gesù Cristo, non sempre, ma spesso, soprattutto in un determinato periodo della sua missione terrena, della sua incarnazione qui sulla Terra, si rivolgeva alla folla, si rivolgeva al popolo, aveva contatto col popolo e con la folla. E in genere lo faceva, come avrete visto in diversi film, ma quello che vi suggerisco di più per rivivere la sensazione e le emozioni cristiche, lo spirito cristico, è Gesù di Nazareth, di Zeffirelli, che è sicuramente anche quello più aderente alle verità evangeliche. Ecco, quindi abbiamo che il corpo del Maestro Gesù Cristo, perché ricordiamoci che il corpo è il tempio dello spirito e dell'anima, quando voleva comunicare alla folla, sempre e solo, attraverso parabole, o usciva fuori all'esterno, semplicemente, semplicemente tra virgolette, o usciva fuori all'esterno. E quindi, come vedete spesso nel film di Zeffirelli, quando lui si regava all'esterno, subito per magnetismo, come vi ho spiegato anche nei video precedenti, le persone lo raggiungevano, le persone erano attratti e attratte dal suo magnetismo. Ma c'è anche spesso questa immagine della barca, che come vi ho accennato prima è anche un'immagine realistica, ma fa sempre da specchio un'immagine figurata. Quando Gesù Cristo saliva sulla barca, spesso assieme ai suoi postoli, in particolar modo a Simon Pietro, e rimanevano sull'ido, cioè sulla terraferma, la folla rimaneva sulla terraferma, questo era proprio indice di come un maestro possa navigare acque, calme, quiete e impervie, e che riesce a impartire il suo insegnamento da qualunque condizione. E il mare rappresenta proprio una qualunque possibile condizione, non ha qualunque possibile condizione dell'apparato psicofisico, che sia turbolenta o quieta, è comunque la base per qualunque forma di insegnamento che abbia uno spirito centrale, che abbia un suo centro di gravità permanente. E il maestro Gesù Cristo, che era un maestro, ma questo tutti noi lo possiamo fare, dobbiamo creare, abbiamo il dovere di creare, se vogliamo essere utili in questa incarnazione, per noi e poi per gli altri, il nostro centro di gravità permanente. Cioè quel centro di gravità permanente che io aiuto le persone a creare attraverso un lavoro su di sé, un risveglio della coscienza, con i corsi, con i libri, con questo stesso canale, che ti consente di rimanere stabile, nonostante le acque sotto siano impervie. Quindi questa metafora che spesso ricorre del maestro Gesù Cristo, che invece di trovarsi sulla terra ferma, si trova nella barca, è simbolo di questa metafora. Metafora che serve da esempio per tutti noi. Cioè noi possiamo salire su qualunque barca che abbia quindi di base un movimento più o meno inquieto delle acque, ma il nostro centro di gravità permanente dipende solo da noi. E quando creiamo il nostro centro di gravità permanente, le acque si possono anche muovere, ma il nostro sé profondo rimane fisso, immobile. Immaginatevi come le statue egiziane, i faraoni, ecco, avete notato che i faraoni sono sempre rappresentati in una posizione che è fissa, stabile, permanente, proprio perché è la rappresentazione del loro centro di gravità permanente. Dopodiché parla, corpo centrale del passo del Vangelo di oggi, della parabola. Parla del seminatore. Il seminatore è il sé superiore. I semi è tutto ciò che attraverso il sé superiore l'apparato psicofisico riesce a raggiungere in questa vita e vita dopo vita. Quando si inizia un lavoro su di sé, questo ci dice la parabola del seminatore. Io inizio a mettere dei semi. Questi semi però non produrranno subito frutti, perché questi semi che io vado a impiantare, a ricercare attraverso il mio sé profondo, come ci dice qua, vengono rilasciati nell'aria e poi mangiati dagli uccelli. In parte cadono nei sassi e i semi nei sassi non hanno molta terra. Qui si riferisce all'aria, ai sassi, ma anche al sole, alle spine, fino a che finalmente giunse alla terra. Terra che invece è resa fertile dai semi e quindi dai suoi frutti. Cosa sono queste immagini dell'aria, dei sassi, delle spine? Sono i tre piani dell'esistenza, i tre piani attraverso cui, per dire meglio, l'esistenza si manifesta, ovvero il piano fisico, il piano emotivo, il piano mentale, che come spiego sempre nei miei corsi di risveglio, sono i piani della personalità che vanno gestiti dall'anima. Noi, finché non siamo identificati con l'anima, pensiamo di gestire i nostri piani, fisico, emotivo e mentale, ma non è così. Tutt'altro. Sono loro che gestiscono noi, che siamo l'anima. Quindi in genere è il piano fisico, il piano emotivo, il piano mentale che gestisce ciò che io sono veramente, ovvero l'anima. Ecco, quello che si fa e quello che ci viene suggerito ancora una volta nel passo del Vangelo di San Matteo di oggi è quello di iniziare a seminare, sapendo che inizialmente questi semi cadranno tra i sassi, nell'aria, tra le spine, cioè cadranno insieme a quella serie di retribuzioni karmiche, a quella serie di attaccamenti dei nostri corpi che non porteranno subito un frutto, che non porteranno subito un beneficio. Ma sapendo anche che con il passare del tempo, invece, questi semi cadranno nella terra e fruttificheranno, cioè questi semi riusciranno a fruttificare solo nella misura in cui io sarò, cioè proporzionalmente a quanto io sono identificato con l'anima. Quindi questi semi fruttificheranno proporzionalmente a quanto io sarò identificato con l'anima. e allora a quel punto ci saranno dei frutti per i quali io posso affermare che è una terra fruttuosa, che è una terra che mi darà frutto. Questo è un incoraggiamento anche per chi, il passo del Vangelo di oggi, anche per chi, e sono molti di voi, hanno già intrapreso un percorso di risveglio della coscienza con me, perché lo so, e so che sono a un punto che non è più quello iniziale, vi ricordate le tre fasi dell'alchimia trasformativa, albedo, nigredo e rubedo, non è più la prima fase dell'alchimia trasformativa, ma sono nella seconda fase, o tra la prima e la seconda, quella in cui inizi a percepire i frutti dei semi del lavoro su di te, ma è ancora diversi attaccamenti alla personalità. Non abbiate fretta, perché come ci ricorda il messaggio cristocentrico di oggi, arriverà il momento in cui questo lavoro su di sé, quindi questi semi, toccheranno la terra e fruttificheranno. Badate sempre bene che tutte le parabole del Maestro Gesù Cristo fanno sempre riferimento ai corpi sottili dell'uomo, all'andamento, al funzionamento dei corpi sottili, visto che il Maestro Gesù Cristo, in quanto tale, in quanto maestro, era conoscitore dei corpi sottili, conoscitore dell'andamento e del funzionamento dei corpi sottili umani e conoscitore soprattutto di quella che è la scienza dello spirito, del sé superiore, del centro di gravità permanente, dell'identificazione con l'anima, della disidentificazione con la personalità, che rientra in quella che ad oggi è chiamata scienza dello spirito, al tempo si rifaceva più riferimento comunque a conoscenze profonde anche di Kabbala. E poi conclude dicendo chi ha orecchie da intendere, intenda, ovvero questa parabola può essere compresa solo da chi ha orecchie per intendere. Che significa intendere? Sapete che a livello esoterico ogni frase, ogni parola, ogni avvenimento non accade mai a caso, non è una coincidenza, non è una casualità. Casualità. Quindi intendere significa comprendere all'ottava alta. Io quando intendo sto comprendendo ma all'ottava alta. Diciamo che per intendere devo avere come minimo compreso. Io comprendo e dopo che comprendo intendo. Vi dico questo perché chi ha orecchie per intendere intenda che poi questo lo troviamo anche in un altro passo di Marco. Questa espressione del maestro Gesù Cristo. Anche in Marco ritroviamo questa espressione, non solo in Matteo. Chi ha orecchie per intendere intenda. Cioè chi è pronto a intendere, quindi chi già ha una parte di coscienza di sé. Voi qui potreste dire ma i Vangeli non sono per tutti? In realtà no. Io questo ve l'ho sempre detto. Il messaggio cristico è per tutti. Cioè è nato con l'intento di arrivare a tutti coloro i quali sono pronti. Cioè tutti coloro i quali hanno già un minimo di coscienza di sé. Perché se non vi è coscienza di sé questo messaggio spirituale non entra proprio all'interno di voi. Non lo recepite, non risuonate con questo messaggio. Poi un conto puoi comprenderlo, farlo proprio, portarlo nella materia, lavorare su di sé che sono i passi successivi. Io vi parlo proprio dell'inizio. Molti di voi che mi ascoltano lo so che gli sembrerà assurdo ma vi assicuro che quanti siete voi che ascoltate questo tanti altri, molti altri non gli interessa questo. Perché? Perché non risuonano col messaggio cristico. Quindi nonostante siano magari persone spirituali o presunte tali poi non risuonano col messaggio cristico perché molte persone che si ritengono spirituali poi in realtà si ritengono già già complete e e questo invece e in questo c'è un grosso errore perché fino al terzo grado di iniziazione non si ha una completezza dei corpi sottili non si ha una completezza dello spirito non si ha un centro di cavità permanente completo ma parziale si hanno delle ricadute carmiche eccetera 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 quindi il messaggio cristico non è per tutti cioè il messaggio cristico nasce per tutti ma non tutti sono per il messaggio cristico ovvero non tutti risuonano con il messaggio del maestro Gesù Cristo questo è quello che cerco anche con questa rubrica del del Vangelo del Giorno in chiave esoterica di trasmettervi tant'è che anche come si legge il Vangelo è decisivo come ovvero molti su questa parabola ho sentito molti parlare di questa parabola del seminatore immaginando la metafora dei semi in realtà no cioè non è solo la metafora dei semi è la metafora dei corpi sottili è la metafora dei tre piani inferiore dell'esistenza è la metafora dell'anima e questo è il cristianesimo esoterico che io sto cercando di trasmettervi se io mi limito a parlare del seme in quanto tale sto sminuendo il messaggio cristico ed è infatti un tipo di lettura esoterica quella invece che vi sto trasmettendo io è un tipo di lettura esoterica cioè profonda legata ai corpi sottili alla scienza dello spirito alla scienza dell'anima alla guarigione dei corpi sottili in relazione al messaggio cristico è un qualcosa che va molto oltre per questo non risuona con tutti ma proprio per questo è molto potente fatemi sapere qua sotto nei commenti una vostra considerazione un vostro commento se questo messaggio del giorno del bandello del giorno risuona con voi e come risuona con voi fatemi sapere qui sotto nei commenti io vi lascio come sempre col motto che ho fatto mio e vi ringrazio per l'ascolto ricordatevi che non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima ciao e tanto bene ciao 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 ciao